buongiorno sono lara liverani coordinatore didattico del dipartimento di economia alcune parole per illustrarvi rapidamente il bando di accesso alle lauree triennali abbiamo già pubblicato un primo bando che si è chiuso il 10 di giugno a questo primo bando hanno partecipato 604 studenti rispetto ai 660 posti messi a disposizione e la graduatore degli doni è stata già pubblicata gli studenti doni potranno quindi procedere con l'immatricolazione nostri corsi di studio a partire dal 12 luglio fino al 19 luglio una volta terminata la fase di immatricolazione la segreteria studenti verificherà che tutte le procedure siano state svolte correttamente e quindi potremo calcolare i posti rimasti residui rispetto ai 660 disponibili a fine luglio quindi pubblicheremo un secondo bando con le stesse caratteristiche del primo quindi i requisiti di accesso rimangono gli stessi non entra il voto di diploma rimane la soglia minima di 13 rispetto al talk vi ricordo che per essere ammessi ai corsi di laurea in economia necessario aver sostenuto un talk e il talk è diviso in tre sezioni matematica logica e comprensione verbale per un totale di 36 punti complessivi e per poter essere ammessi bisogna ottenere almeno 13 in queste tre sezioni resta poi sempre valido anche il debito di matematica eventualmente nel caso in cui lo studente ammesso non abbia conseguito un punteggio uguale superiore a 4 appunto nella sezione di matematica abbiamo aperto le iscrizioni sul portale del cisia che accise online punto it anche per il talk a partire dal 20 luglio quindi trovate già disponibili le date per luglio agosto e settembre vi ricordo di tenere sempre monitorato il sito di economia che è www.economia.inmore.it soprattutto nella sezione futuro studente che è un pulsante che trovate in alto sulla destra dove aggiorniamo continuamente le informazioni per le future matricole e vi ricordo che la segreteria didattica è sempre a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti quindi sia attraverso lo sportello di ricevimento skype che telefonicamente che contattandoci eventualmente per email per avere un mit dedicato alle mie spalle trovate l'interno del foro boario speriamo di accogliervi tutti a partire da settembre come probabilmente avrete visto il lettore ha dichiarato che le attività riprenderanno in presenza al cento per cento quindi ci auguriamo fortemente di incontrarvi a settembre a partire dal 22 settembre che all'inizio delle elezioni presso i nostri edifici il foro buario che l'edificio principale la sede di via fontanelli o la fondazione marco viaggi vi ricordo infine il 13 luglio mi piace un imore dove vi racconteremo i servizi del dipartimento grazie a tutti grazie a tutti